Avete presente la sensazione di quando si entra in una pizzeria a taglio? Quella sfilza di teglie, quel profumo incredibile di pizza cucinata. È di un'eleganza brutale, brutale. Mi chiamo Gabriele Bonci e sono qui per raccontarvi quattro varianti di pizza. Faremo una focaccia, una pizza da teglia, una tatin e una patria. Accendete i forni e seguitemi su accademia.tv Grazie per la visione!